Mi dispiace solamente dall'orgoglio che sta accendo Si mortifica ogni giorno, ma la mano che fa niente Che non vede la coscienza, che non vede il rispetto Come fa una vita suona, guarda sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, guarda sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, guarda sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, guarda Loreto PTA, informe che si studia con un lavoro avanzato Che permette di mantenere standard Si tratta della sede nazionale del partito che ospita anche il coordinamento regionale campano del partito. Abbiamo ripreso un'attività che non abbiamo mai smesso. Dopo le note vicende napoletane, dopo la rielezione di questo sindaco che non ci soddisfa prima, non ci soddisfa adesso e che continua ad offendere i cittadini napoletani, noi a prescindere da ogni cosa riteniamo che un partito pensionati debba esistere in Italia così come esiste in altri paesi d'Europa e che debba diventare riferimento certo per tutti gli anziani e i pensionati d'Italia. Perché dico questo? Perché ne sono convinto? Perché riprendiamo l'attività e la riprendiamo su basi nuove e la riprendiamo lanciando un messaggio e ai napoletani e agli italiani? Noi dobbiamo mettere in condizione questo partito di poter camminare con le sue gambe. Il che significa dare supporto a questo partito cominciando con una campagna che noi avviamo da questa mattina di iscrizione al partito. E allora camminare con le proprie gambe che significa? Significa per esempio contrastare nella maniera come le forze istituzionali, anche di opposizione, non riescono a fare all'interno delle istituzioni. E allora i pensionati sono una categoria, una grande parte della popolazione italiana che non ha nessuna rappresentanza a livello elettivo. Il che significa che siamo abbandonati a noi stessi. Io do atto al Presidente della Regione. Prima di questa riunione noi abbiamo mandato una nostra richiesta al Presidente De Luca e gli abbiamo chiesto con una missiva raccomandata che estendesse anche ai pensionati ultra 65 anni e 70 anni il diritto alla mobilità sul piano regionale. Così come è successo per gli studenti delle scuole medie e inferiori e superiori. Allora noi abbiamo avuto una risposta. Noi ringraziamo De Luca per averci dato un minimo di soddisfazione. Quanto meno per aver letto e preso atto della nostra richiesta nella quale noi dicevamo c'è una grande parte di pensionati che non è nelle condizioni di muoversi da casa perché non tene i sordi per muoversi da casa. E allora mettiamoli in condizioni di non stare più agli arresti domiciliari mettiamoli nelle condizioni di potersi muovere e di godersi Napoli e di godersi la provincia di Napoli e di godersi la Campania senza dover borsare niente perché i soldi non ce li ha. E allora ecco su quali base poggia l'attività del partito pensionato e che cosa intende fare nel prossimo futuro. Però noi non possiamo essere subordinati a chi che sia. Noi abbiamo bisogno della nostra autonomia. L'autonomia significa anche poter disporre dei mezzi necessari per poterci prospettare alla pubblica opinione. Allora noi questa mattina inaugurando la sede nazionale che è stato semplicemente un comitato messo a disposizione nel corso della campagna elettorale ultima scorsa nel tentativo di rimuovere le situazioni a Napoli, di dare un sindaco alternativo a Napoli noi stamattina diamo un messaggio al popolo napoletano e ci auguriamo che attraverso i mezzi di comunicazione riusciamo a ritrovare anche al popolo italiano. Noi diciamo da Napoli parte un'iniziativa forte del popolo dei pensionati che di fronte al messaggio del partito pensionato di Europa comincia a prendere coscienza che è necessario avere un partito di riferimento. che cosa faremo? Abbiamo già messo in condizione rispettando lo statuto del partito di mettere su un comitato un coordinamento regionale che è composto da un Presidente giovane e da una serie di persone che hanno accettato di stare con noi. Ci presenta questo Presidente giovane? Io lo presento. Non l'ho scelto io perché non avrei mai scelto un familiare. L'hanno scelto coloro i quali hanno partecipato ad una serie di iniziative nel corso dei mesi passati. Parliamo subito dopo la campagna elettorale di giugno poi a settembre, nei primi giorni di settembre c'è stata anche una riunione in agosto. Allora noi partiamo ecco se è nuovo. Vediamo un poco la popolazione come affronterà e come considererà le iniziative che noi porremo in essere e partendo, ecco non ne voglio parlare io dal territorio, noi stiamo in via e annelli, siamo diventati una strada a grande traffico che è stata resa inutile da un provvedimento, da un'ordinanza sindacale che l'ha considerata una strada secondaria e l'ha chiusa al traffico in salita e in discesa. Non c'è più il doppio senso di marcia perché ci sono dei lavori che non conosciamo, a meno che non andiamo ad approfondire la delibera comunale che noi personalmente conosciamo ma che i cittadini non conoscono perché questo sindaco, questa amministrazione comunale non ha manco ritenuto di mandare un avviso a centinaia, a migliaia e migliaia di abitanti e residenti in questa zona ospedaliera la zona più importante di Napoli. Vedete ci sono dei lavori in corso, io penso che sono stati ripresi ci sono dei cumuli che domani mattina appena verrà a piovere ritorneranno al loro posto, ci sono delle catitoie che sono state coperte dall'asfalto e che saranno ricoperte dall'asfalto, quando verrà a piovere noi avremo la lava in via e gli annelli, queste sono le cose di vivibilità immediata del cittadino e dell'anziano in particolare. Però i programmi del Partito Pensionati d'Europa sul piano locale avranno una loro estrinsegazione che sarà interessante e per quanto invece riguarda il piano nazionale noi affronteremo le grandi problematiche e quando io parlo di autonomia rivendichiamo l'autonomia anche nella scelta dopo aver capito bene di che cosa stiamo parlando a livello referendario perché noi non accettiamo che si dica no perché c'è Antipatico Renzi o che si dica sì perché le opposizioni devono approfittare, cioè la maggioranza deve approfittare della buona fede del cittadino e vuole infinocchiare il cittadino con iniziative che non si conoscono. Noi saremo attenti e decideremo da qui a breve dopo aver affrontato la problematica nel dettaglio che cosa faranno, quale messaggio lancieremo ai pensionati rispetto al sì e al no al referendum perché noi su una cosa siamo ferrati, su una cosa noi riteniamo che si debba agire sul cambiamento dell'Italia, quest'Italia organizzata in questa maniera non ci piace e allora il referendum lo affronteremo nella maniera dovuta dopo aver capito bene le cose. Allora, con Italia Sommilla, come sono in carico nel partito? Quali sono le sue idee e qual è il suo programma elettorale? Benissimo, io oggi sono qui per pubblicizzare il mio impegno affinché il partito pensionati possa uscire dall'anonimato. Il nostro primo obiettivo è quello di ridare dignità ai pensionati perché crediamo che sia una categoria importantissima perché parliamo dei nostri padri, dei nostri nonni, parliamo di noi pensionati del futuro. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, quindi di sensibilizzare noi e quello di ridare dignità ai pensionati. Maria Settembre, il suo ruolo in questo nuovo organigramma del partito? Sì, allora, io sono stata nominata dal nuovo partito pensionati d'Europa come tesoriere e praticamente adesso dobbiamo sponsorizzare il partito e farlo uscire dall'anonimato facendo una campagna tesseramento per l'anno in corso ma anche per gli anni successivi e quindi invitiamo pensionati e non solo perché questo partito non è rivolto semplicemente ai pensionati ma anche ai giovani senza lavoro, alle famiglie disagiate, insomma di poterci aiutare e portare avanti gli obiettivi di cui si occupa questo nuovo partito. Tanto impegno per il partito, finalmente oggi è a nostri microfoni. Allora, lanciamo un messaggio in modo che la gente possa capire questo impegno politico. Allora, io ritengo di dover aderire a questa iniziativa e scrivermi a questo partito perché ne condivido lo spirito e appunto le prospettive future, quella di valorizzare l'enorme patrimonio umano e culturale che è rappresentata dai pensionati. I pensionati fino ad oggi, così, sotto gli occhi di tutti, che rappresentano un mondo trascurato, un mondo che non riceve la dovuta attenzione. Il pensionato è una persona che magari fino al giorno prima è un ottimo manager, un ottimo lavoratore, è una persona che riesce a dare molto alla società, il giorno dopo che va in pensione praticamente è totalmente ignorato e cade nell'oblio, cade nell'incapacità di poter esprimere tutto quel mondo di esperienza che lui ha accumulato nel corso degli anni. Ora è necessario che tutto questo venga appunto valorizzato e una forza che riesca a coagulare tutto questo enorme patrimonio è destinato ovviamente a raccogliere ampi consensi. Vorrei innanzitutto dire una parola. Io non sono né un politico né… sono un pensionato al minimo. Ecco, sono uno di… appartiene a questa specifica classe che purtroppo è in una condizione specifica da non poter nemmeno vivere e campare. Sono esigenze primarie. La mia meraviglia sta nel fatto come una classe così ampia in Italia, cioè milioni di persone e centinaia di migliaia di persone a Napoli, non hanno saputo esprimere una forza. Come si può fare per esprimere questa forza? Venite presso questa sede di Via Gli Annelli al partito pensionistico, date la vostra forza, date il vostro apporto e create un proprio personaggio oppure un qualcuno che a livello politico sappia esprimere queste esigenze. Questa è l'importanza della cosa, non altri. Non parliamo né di politica né di destra né di sinistra, ma parliamo delle esigenze dei pensionati. Quindi avrete presso la sede di Via Gli Annelli uno sportello pensioni da cui potrete arrivare e potete mostrare le vostre esigenze. E se potranno essere soddisfatti, senz'altro sarete in grado di poter effettuare le vostre richieste. Mi è al culto al fabbisogno di tutti i pensionati, non solo di Napoli, ma di tutta Italia. È un settore che veramente chi lo vive di prima persona è carente, ma da anni, ma è in silenzio. È un fuoco sotto la cenere che va scoppiato da un momento all'altro, come in questi giorni si parla sui quotidiani, per televisione, ma è un modo per tappare la bocca ai pensionati. I pensionati sono l'energia del futuro dei giovani. Oggi un pensionato addirittura paga lo scotto per i propri figli, per mantenerli, per andare a scuola, per i nipoti, per tutti. Questa è una vergogna, che pagano loro lo scotto, mentre ci sono delle pensioni d'oro, dei vitalizi che fanno paura. Quando è che si mette una situazione quando dicono che la legge è uguale per tutti? Non è vero. La legge non è uguale per tutti, la legge la fanno a modo loro. È una cosa indegna, una cosa vergognosa. Mi arrabbio perché è così, è la verità, però parecchie persone si soprassiedono, non se ne fregano e poi si lamentano. Non vi lamentate, venite qui a Via Iannelli, al movimento dei pensionati, perché lo ritengo ancora un movimento, per sapere, per constatare da vicino, ciò che si può fare insieme. La lotta va continuata e va precisata, in tutti i suoi dettagli, per ottenere un risultato migliore. Grazie. Mi dispiace sulla mente, dall'orgoglio che sta accendo, si mortifica ogni giorno, ma la mano che fa niente, che non vede la coscienza, che non vede il rispetto, come fa una vita suona, buona sera, rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta. Grazie.